Si è conclusa con la vittoria di Pasquale Abbinante di Scafati e di Antonella in Cristi prima delle donne la nona edizione della maratona ciclistica del Matesanio su un percorso di 106 chilometri con partenza e arrivo a Gioia Sannitica. L'interessante appuntamento sportivo che si è svolto su un bellissimo percorso studiato e voluto dagli organizzatori anno dopo anno diventa sempre più un appuntamento sportivo di grande rilievo non solo per l'aspetto agonistico perché si tratta comunque del medio fondo del campionato italiano ma anche per la promozione di un territorio affascinante che potete ammirare nelle bellissime immagini di Giuseppe Iadonisi. Gare come queste ha detto il sindaco di Gioia Sannitica benvengano perché rappresentano senza dubbio un momento di sport sì ma anche di promozione per il nostro territorio. Da Gioia Sannitica è tutto Lorenzo Applauso per casertasera.it